Ben ritrovati su Sicilia 24 per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia a Partanna, nel Trapanese i carabinieri hanno denunciato due palermitani. I militari li hanno sorpresi a rubare del materiale ferroso all'interno di una ditta confiscata. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Partanna hanno denunciato per furto aggravato due palermitani di 32 e 42 anni. Durante un servizio di pattuglia finalizzato alla repressione dei reati contro il patrimonio, i militari dell'arma hanno notato un autocarro sospetto nei pressi di una ditta confiscata. I carabinieri hanno chiamato un'altra pattuglia di rinforzo che era in zona e hanno chiuso le possibili vie di uscita. La manovra adottata dai militari ha avuto esito positivo in quanto i due palermitani, con precedenti di polizia, non hanno avuto via di fuga e sono stati bloccati mentre ancora erano all'interno dell'azienda. L'autocarro era stato già caricato con tre quintali di materiale ferroso, con ingente danno e raviale in quanto, secondo i carabinieri, i beni erano stati asportati in danno della ditta entrata nel patrimonio dello Stato. L'ingente materiale, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato restituito all'amministratore giudiziario. A Ispica, nel Ragusano, un 29enne è stato invece condotto in carcere dai carabinieri e accusato di sequestro di persona e violenza sessuale. I carabinieri della stazione di Ispica hanno tratto in arresto un pregiudicato di 29 anni di origine algerina, coniugato e disoccupato. Il 29enne, che si trovava già ristretto in regime di arresti domiciliari nel comune di Ispica, è stato tradotto dai militari dell'arma presso la casa circondariale di Ragusa, in ottemperanza a un ordine di carcerazione emesso il 18 aprile scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. L'arrestato dovrà espiare una pena residua di 5 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di sequestro di persona, violenza privata e violenza sessuale commessi nel giugno 2020 nei confronti di una ragazza marocchina all'epoca dei fatti 19enne. A Messina la Digos ha fermato un cittadino siriano sbarcato nei giorni scorsi nelle coste siciliane. L'uomo sarebbe contiguo a un'organizzazione terroristica di matrice jihadista. Vediamo il servizio. La Digos di Messina ha eseguito un fermo emesso dalla locale procura distrettuale per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo nei confronti di un diciottenne cittadino siriano. In occasione dei sistematici controlli di sicurezza effettuati dalla Polizia di Stato sui migranti che sbarcano clandestinamente sulle coste italiane, la sera dell'11 marzo scorso l'attenzione degli operatori della Digos della Questura di Messina si è focalizzata sul giovane siriano soccorso in mare a largo delle coste siciliane da un pattugliatore della guardia di finanza e giunto al molo di Messina unitamente ad altri 222 stranieri. Le indagini dei poliziotti sono scaturite proprio alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso siriano apparse contraddittorie e dei contenuti presenti sul telefono, elementi dai quali è stata desunta la sua possibile aderenza a un'organizzazione terroristica di matrice jihadista operante in Siria. Il proseguo delle indagini ha quindi consentito di recuperare i file che il fermato aveva cancellato dal device, tra cui numerose chat e contenuti mediati cineggianti alla jihad, da cui è emersa chiaramente la sua militanza anche con un ruolo di comando interno tra i siriani combattenti per Jabhat al-Nusra. In considerazione dei gravi elementi indiziari raccolti e del pericolo di fuga connesso all'imminente uscita dell'indagato dal CPR, la procura messinesi ha emesso un provvedimento di fermo che il giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta ha convalidato. Cambiamo argomento, parliamo di spaccio di sostanze stupefacenti. La notizia arriva da Catania, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un pusher. Tutti i dettagli nel servizio. Gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un uomo gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le volanti, impiegate in mirati servizi di controllo del territorio, hanno fermato un soggetto che si trovava a bordo di un motociclo in transito per viale Libertà. L'atteggiamento nervoso del conducente, alla vista della Polizia, ha insospettito gli agenti che hanno così deciso di approfondire i controlli perquisendo l'uomo e il mezzo sul quale viaggiava. L'accertamento ha dato esito positivo in quanto all'interno del vano sotto sella del motociclo, è stato rinvenuto un borsello contenente 24 dosi di marijuana, 3 dosi di cocaina e 16 dosi di crack, tutte confezionate in bustine trasparenti e pronte per essere smerciate. All'interno della tasca del giubbotto indossato dall'uomo sono stati invece rinvenuti 490 euro in banconote di piccolo taglio, evidentemente provento dell'attività di spaccio. Nel corso del controllo, inoltre, all'utenza cellulare del soggetto sono giunti diversi messaggi da assuntori e clienti che fissavano appuntamenti per l'acquisto dello stupefacente. Alla luce dei fatti, con l'ausilio di altro personale, è stata effettuata un'ulteriore perquisizione presso l'abitazione dell'uomo dove è stato rinvenuto un tacquino nel quale l'uomo meticolosamente annotava nomi e indirizzi degli acquirenti unitamente alle cifre e al quantitativo della sostanza ceduta. Dopo aver proceduto al sequestro della droga, del denaro, del tacquino e del motociclo che tra l'altro era privo di assicurazione, il pusher è stato arrestato e su disposizione del PM di turno, posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Un arresto per spaccio di stupefacenti anche a Paternò nel Catanese si tratta di un trentenne che non è sfuggito ai controlli dei carabinieri. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò hanno arrestato in flagranza un trentenne del posto già noto alle forze dell'ordine per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'arma nel corso dello svolgimento di un servizio di contrasto all'illegalità diffusa in particolare dello spaccio di droghe nel transitare in via Emanuele Rapisarda hanno notato un uomo che al passaggio della gazzella si è improvvisamente chinato nascondendosi dietro un'autovettura in sosta. I carabinieri hanno deciso di sottoporre a controllo il soggetto che oltre a destare sospetto cercando di sparire dietro l'auto è stato visto anche liberarsi repentinamente di una borsa a tracolla che ha lanciato sotto il veicolo. Recuperata la tracolla e bloccato l'uomo identificato poi nel trentenne, i carabinieri hanno proceduto a una perquisizione al termine della quale hanno avuto riscontro poiché all'interno della tracolla hanno trovato 17 involucri in carta alluminio contenenti marijuana per un peso complessivo di 23,60 grammi sottoposti a sequestro dai militari. I carabinieri hanno posto il trentenne a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto disponendo per lui la sottoposizione all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Torniamo a Catania ma per parlare dei controlli effettuati in città dai carabinieri, controlli nello specifico nel quartiere Librino. Il bilancio parla di sei persone denunciate e diverse sanzioni. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Nell'ambito del piano straordinario di controllo del territorio avviato dal comando provinciale di Catania in vista delle festività del 25 aprile e del 1 maggio i carabinieri del nucleo radiomobile di Catania nel corso della loro attività di pattugliamento delle aree di maggiore aggregazione e di quelle più esposte sotto il profilo della sicurezza pubblica sono stati impegnati con la collaborazione della polizia locale in un servizio di contrasto all'illegalità diffusa nel quartiere di Librino. I militari dell'arma in tale contesto operativo hanno effettuato diversi controlli alle persone sottoposte a misure cautelari presso le rispettive abitazioni riscontrando la regolare presenza in casa di tutti tranne che per un ventenne un pregiudicato catanese sottoposto ai domiciliari in viale Moncada che è stato deferito per evasione. Gli operanti inoltre hanno denunciato per furto di energia elettrica sei soggetti appartenenti a una stessa famiglia proprietari di abitazioni site nel medesimo immobile ubicato in via Scordia. Nel prosieguo dell'attività di polizia condotte anche nella zona di San Giorgio sono state sottoposte a controllo due officine meccaniche nei cui confronti sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 12 mila euro. È stato accertato infatti che i predetti esercizi pubblici svolgevano attività professionale in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative violazione punita anche con la chiusura delle attività e il contestuale sequestro delle attrezzature da lavoro. Il titolare di un ADS inoltre è stato deferito all'autorità giudiziaria per traffico illecito di rifiuti speciali per non aver smaltito gli oli esausti così come previsto dalla legge. I controlli alla circolazione stradale hanno consentito ai militari operanti di identificare una quarantina di persone e di sottoporre ad accertamenti una ventina di veicoli con l'elevazione di 32 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per un importo complessivo di circa 43 mila euro e il sequestro amministrativo di 10 veicoli. Ad Adrano, sempre nel Catanese, la polizia ha invece effettuato dei controlli ai venditori ambulanti di Panini e sono state riscontrate alcune irregolarità. Nell'ambito delle diversificate attività di controllo del territorio, agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano nelle ultime settimane hanno proceduto a mirati servizi volti a verificare la regolarità degli automezzi, cosiddetti camion dei panini, utilizzati da locali esercizi ambulanti per la somministrazione di bevande e alimenti. Gli operatori di polizia, nel corso degli accurati controlli, hanno accertato come i furgoni non risultassero in regola con le basilari norme del codice della strada, riscontrando gravi violazioni incompatibili con il proseguimento dell'attività commerciale. Difatti, su cinque attività ambulanti controllate, ben tre, nella centralissima piazza Sant'Agostino ad Adrano, sono risultate irregolari per la mancata revisione del veicolo, una di esse in particolare per mancanza di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Violazioni per le quali sono previsti il fermo amministrativo e nel caso della mancanza di assicurazione il sequestro amministrativo del furgone, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria che complessivamente per le tre attività è risultata di oltre 1.500 euro. Ripetuto il controllo qualche settimana dopo, è stato accertato che in due casi i trasgressori non avevano ottemperato all'obbligo di revisione, ragione per cui si è proceduto all'applicazione di un'ulteriore sanzione pecuniaria, oltre al fermo amministrativo per ulteriori 90 giorni e alla rimozione degli automezzi. È tornata a tremare la terra in Sicilia, un'altra scossa di terremoto dopo quella di ieri pomeriggio, la ricorderete certamente, un magnitudo 4.4 alle 14.06 con ipocentro in mare a 5 chilometri da Acicastello, tanta paura ovviamente ma nessun danno. Un'altra scossa si è poi verificata invece in nottata, poco dopo la mezzanotte in questo caso l'ipocentro è stato in mare e a Malta. Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 che si è però sentita benissimo anche in alcuni comuni nelle province di Ragusa, Siracusa e Catania. Anche in questo caso però fortunatamente nessun danno segnalato. Ed ora il calcio con il Palermo che oggi ospita il Benevento. Ieri alla vigilia del match ha parlato mister Corini. Una partita densa di significato e per me riavvolgendo il nastro è come prima della partita d'andata che siamo andati a Benevento, che era un momento oggettivamente molto delicato dal punto di vista della classifica, di qualche risultato dove c'eravamo ripresi, poi vengono le due sconfitte di Cosenza e di Venezia. La classifica non era sicuramente buona, addirittura che i risultati del pomeriggio diventò ancora meno buona e in quel momento con grande equilibrio hanno fatto una partita per me importante di ordine, di equilibrio, da squadra. Perché quello che mi sento di dire è che questa è una squadra di ragazzi seri che hanno sempre interpretato bene il loro lavoro, a volte possiamo aver fatto bene, a volte meno bene. Ed è sempre un concetto per me globale e di Cosenza si ripropone 18 partite dopo, un'altra partita oggettivamente importantissima perché potrebbe, come hai detto bene tu, mettere in sicurezza quello che era l'obiettivo stagionale dichiarato dalla proprietà e cui mi hanno affidato questo compito. Il percorso lo sapete bene, non mi va tutte le volte di ribadire da come abbiamo iniziato, a cosa abbiamo affrontato. Per me la squadra dopo un buon inizio di girone di ritorno ho percepito un'energia di un certo tipo che mi ha spinto a dire che sognavamo di entrare nel playoff e l'abbiamo sempre percepita e declinata parlando di sogno con la consapevolezza del percorso ma con la voglia di andare oltre magari qualche limite e ci abbiamo provato sempre. La storia del girone di ritorno mi sembra chiara perché abbiamo fatto 14 partite e dunque abbiamo perso tre volte e mi sono segnato che solo Genoa, Cagliari, Frosinone e Suttiro l'hanno perso due volte. Tre volte hanno perso come noi il Como e il e le altre hanno perso di più. Il confine sottile è stato se si va a declinare solo da un punto di vista dei risultati si deve andare dentro a vedere le prestazioni, la crescita della squadra. Noi siamo il terzo miglior attacco, solo il Genoa e il Frosinone hanno fatto un gol più di noi, purtroppo siamo la diciassettesima difesa come gol subiti. Abbiamo cercato di trovare una sintesi sulla voglia di fare una proposta e di avere un equilibrio difensivo. Su questo continuamente ci stiamo lavorando ma fa parte di un percorso di dove vogliamo portare la nostra squadra quest'anno perché in queste cinque partite si possono fare ancora tantissime cose ma su come vogliamo sviluppare il nostro futuro per diventare sempre più soldi, più forti, creare una mentalità di un certo tipo. Per il momento è tutto, chiudiamo questo appuntamento con Spazio e Notizia ma ci ritroviamo più tardi ovviamente sul Sicilia 24. Grazie a tutti.